Oggi 18 novembre, la Chiesa Cattolica festeggia San Frediano di Lucca. Irlandese nato intorno al Cinquecento, figlio di un re, Frediano è abbastanza ricco da poter studiare e diventare monaco. La sua aspirazione. Intelligente, saggio e buono, desideroso di diffondere il Vangelo in Europa, il monaco parte in pellegrinaggio e si dirige a Roma. In questa grande e importante città, Frediano compie approfonditi studi di ingegneria idraulica. Dopo aver arricchito la propria cultura, il religioso cerca un luogo dove vivere da eremita. La solitudine e il contatto con la natura incontaminata dall'uomo sono la condizione ideale cercata da uomini di Dio in ogni tempo. Frediano si stabilisce in Toscana sul Monte Pisano, tra Pisa e Lucca. I lucchesi si accorgono che su quell'altura vive un uomo speciale. Un uomo energico, buono e colto, che prega ed ha tanta fede. Così all'unanimità la popolazione decide di nominarlo Vescovo. Sono tempi difficili. I continui saccheggi impoveriscono sempre di più i villaggi. Frediano accetta e subito si adopera per dare aiuto ai più poveri, ai contadini e ai pescatori e per convertire al cristianesimo i nuovi dominatori, i longobardi, atei e pagani. Il Vescovo compie anche vari miracoli. Il più famoso è la deviazione del fiume Serchio, affluente dell'Arno, che con le sue inondazioni minaccia i terreni coltivati e la città di Lucca. Con un rastrello e tante preghiere, Frediano traccia un nuovo percorso, facendo deviare il fiume e rendendo fertili le campagne. Invece durante la costruzione a Lucca della basilica voluta da Frediano in onore dei Santi Vincenzo, Lorenzo e Stefano, oggi intitolata a San Frediano, si narra che il Vescovo si sia caricato da solo un masso enorme che nessun operaio riusciva a smuovere e che lo abbia trasportato dalla cava fino al cantiere. Grazie alle preghiere di Frediano il masso era diventato leggerissimo. Un altro evento prodigioso legato alla costruzione della chiesa è anche quello denominato il miracolo del pesce. Per finire la costruzione occorrono 100 denari che il Vescovo chiede a un ricco signore che però rifiuta. Durante il ritorno, navigando il cerchio, al Signore Avaro cade nel fiume la borsa con i 100 denari. Dopo qualche tempo i pescatori pescano un pesce gigante e lo regalano a Frediano. Quale sorpresa quando il Vescovo si accorge che nella pancia del pesce c'è la borsa persa dal ricco Signore, il quale, pieno di vergogna e pentito, prega a Frediano di accettarli. Il Vescovo però rifiuta ammonendolo. Dio dona la ricchezza ma può anche toglierla. Frediano muore nel 588 circa a Lucca dove oggi riposa nella basilica a lui dedicata. Abbiamo trasmesso Ecco chi è San Frediano di Lucca, breve a geografia tratta dal libro di Mariella Lentini, Santi compagni guida per tutti i giorni.